Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, si era intrufulato all'interno di un'auto demolizione, aveva tentato di portare via pezzi di auto di lusso, ma è stato scoperto dai vigilantes e fermato dalle forze dell'ordine. Dunque il furto è stato sventato proprio sul nascere, dicevamo ieri, in un'azienda retina appunto di auto demolizioni. Adesso invece torniamo a parlare del maltempo delle piogge in particolare che avevano interessato lo scorso 10 ottobre non solo la città di Arezzo ma anche il suo Interland. Siamo infatti a Vitiano, i residenti dicono qui si allaga tutto anche solo con una pioggia un po' più abbondante. Vediamo. Siamo a Vitiano, frazione del comune di Arezzo. Questa strada di competenza comunale ogni volta che piove, anche in maniera non troppo importante, si allaga. È molto rischioso perché come io e altre persone che abbiamo la macchina bassa si rischia di rimanere bloccati lì. Qui si allaga anche quando i millimetri di acqua non sono poi tantissimi? Sì, sì, anche quando sono pochi si allaga comunque. Il problema che interessa circa 30 famiglie ma anche tutti coloro che utilizzano questa strada verso la Valdichiana sarebbero i fossi. Non sono manutenuti, dicono i residenti, da parecchio tempo. Sì, la manutenzione non è scarsa, è proprio assente e questo è il principale motivo che soprattutto nelle frazioni si accusa, soprattutto dopo la fine delle circoscrizioni. Vorrei anche sottolineare che questa è una strada non solo utilizzata dai residenti ma anche da quanti coloro si dirigono verso la parte bassa di Castiglione Fiorentino e della fratta di Cortona. Sarà Andrea Gallorini, consigliere comunale del Partito Democratico, a portare la questione in consiglio nella prossima adunanza. Sì, questo problema è stato segnalato negli anni, l'amministrazione comunale ne ha conoscenza, però ad oggi non è stato fatto nulla. Ricordo che la strada è di competenza comunale e che l'ultimo intervento di pulitura dei fossi è stato eseguito dalla circoscrizione 5 di Rigutino ormai quasi 20 anni fa. In questo lasso di tempo non è stato fatto nulla, i fossi si sono colmati di detriti nel corso degli anni e questo comporta appunto l'allagamento dell'incrocio e di questa porzione della via nuova. Passo in avanti storico per gli infermieri lauree specialistiche e prescrizione. L'annuncio del ministro Schillaci di fronte ai 102 presidenti degli ordini professionali, tra cui il presidente di Opia Rezzo Giovanni Grasso. Un annuncio addetto di atti concreti, quali l'istituzione di tre nuovi corsi di laurea specialistica in cure primarie e sanità pubblica, cure pediatriche e neonatali e in cure intensive dell'emergenza. Saranno così offerti ai nostri professionisti, dice Grasso, già in possesso di lauree triennali abilitanti, ulteriori opportunità formative e sbocchi di carriera in settori che rappresentano le principali necessità dei cittadini. Ancora sanità perché a Bibiena sono partiti i lavori per l'ospedale del futuro e la nuova casa di comunità. Tre linee di finanziamento, un costo complessivo di oltre 11 milioni di euro grazie a fondi PNRR e fondi anche del Piano Nazionale per gli investimenti complementari. I lavori dovrebbero terminare entro dicembre 2025. Ma sentiamo il consigliere regionale del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli. Sono partiti i lavori per circa 15 milioni di euro che consentiranno un miglioramento sismico dell'ala del vecchio ospedale qui di Bibiena, consentiranno la realizzazione della nuova casa hub che sarà al servizio delle altre esistenti in Casentino e il miglioramento dell'impianto antincendio. Questa è la dimostrazione di come la regione toscana, contrariamente a quello che dice qualcuno, tiene a piccoli ospedali, li vuole riqualificare e li vuole potenziare. Accanto a questi lavori che utilizzando i soldi del PNRR consentono di adeguare e migliorare l'infrastruttura, è arrivata anche la delibera per l'acquisto della nuova TAC. Sono arrivate recentemente due psicologhe, un amministrativo di supporto al pronto badante, alcuni infermieri e c'è l'impegno dell'azienda per la ricerca anche dei medici, sia per medicina che per il pronto soccorso che in questo momento sono carenti. Tutto questo però fa parte di un impegno importante per il quale voglio ringraziare l'azienda con i suoi tecnici che hanno progettato che sono qui al lavoro, con tutti quelli che si sono adoperati e si adopereranno perché questo intervento che cambierà il volto della sanità ospedaliera e territoriale in Casentino perché ci sarà il massimo dell'integrazione fra i medici in medicina generale e anche i servizi ospedalieri possano essere realizzati nei tempi previsti e a regola d'arte. Una raccolta alimentare che si è svolta nelle scorse ore all'interno dei supermercati COP di Arezzo ha consentito di donare oltre 4 kg di cibo alla Caritas di Ocesana. Per noi è un grande piacere svolgere questo servizio per le persone che purtroppo hanno più bisogno di noi e quindi noi impiegramo volentieri il nostro tempo libero affinché possiamo essere utili a queste persone. Per noi non è molto dare un po' del nostro tempo libero in contrapposizione al fatto che andrà a beneficio di tante persone che purtroppo sono più sfortunate di noi in pratica. Sono stati oltre 90 i volontari coinvolti nella raccolta alimentare che si è svolta sabato scorso nei supermercati COP dell'Aretino. Oltre 4.600 i kg di alimenti donati alla Caritas di Ocesana per aiutare le famiglie in difficoltà del nostro territorio. Cerchiamo di fare un po' di volontariato perché ci sono tante famiglie bisognose anche di aretini che magari insospettabilmente non riescono ad arrivare alla fine del mese quindi cerchiamo di fare quello che serve. Sempre più grande è purtroppo la percentuale delle famiglie che rientrano nei cosiddetti nuovi poveri. Ci sono tante famiglie, tante situazioni all'estremo quindi il bisogno aumenta ogni giorno quindi noi siamo molto felici e consapevoli di quello che richiede la società. Anche una piccola cosa, l'importante è partecipare. Un nuovo anno al suo inizio e anche una nuova sede parte, la nuova scuola di politica. Dottor Tenti, oggi doppia festa, una bellissima sede e il progetto di formazione civica al quarto anno. Un gruppo di amici presuntuosi, il più presuntuoso sono io, ha pensato di trasmettere quel poco che sa a coloro che avessero voglia di fare politica ma intesa però politica come servizio. Non propriamente come oggi la maggior parte delle persone la intende. La politica è una cosa bella. Qualche volta sono meno belli i politici. Quindi senza assolutissimamente alcun orientamento di parte avremmo la pretesa di raccontare qualche cosa del nostro modesto sapere nell'ambito della politica naturalmente a chi domani avesse voglia di fare, che ne so, il consigliere comunale. Comunque di impegnarsi in politica. Questo è lo scopo fondamentale, principale, anzi no, unico di questa iniziativa. Si chiama infatti scuola di introduzione alla politica che si tiene nella ex chiesa in via Oberdan, nella Madonna del Duomo, un luogo splendido, cortesissimamente donato, utilizzato, che ci è consentito di utilizzare gratis, dalla famiglia di Antonio, dai figli di Antonio Boncompagni, Giuseppe e Susanna. Sancisce questa unità di intenti tra la scuola e il territorio. Queste personalità che mettono a disposizione le loro competenze per far crescere le nostre ragazze e i nostri ragazzi rappresenta veramente l'idea bellissima perché si possa veramente creare un momento di incontro dove il territorio entra dentro la scuola, la scuola entra nel territorio. E soprattutto anche perché non si delega soltanto alle nostre aule il momento di crescita, ma tutti ci mettiamo a disposizione affinché ci possa essere veramente in maniera trasversale un riavvicinamento verso la politica, la politica bella. Diciamo l'attività è andata crescendo, le scuole hanno subito il primo anno aderito e abbiamo ricavato delle soddisfazioni anche per la partecipazione dei ragazzi e soprattutto per le richieste degli insegnanti del materiale su cui puoi lavorare perché spesso le lezioni cercano di affrontare delle tematiche che nei libri anche di educazione civica non vorrebbero praticamente affrontati. E quest'anno siamo arrivati addirittura a Lamplein, cioè tutte e 24 le scuole superiori del comune e della provincia hanno aderito. Per cui chiaramente anche le borse di studio sono un po' un riconoscimento che l'associazione fa per premiare anche le scuole. Io sono contentissima e condivido tutte le parole che ha detto il dottor Tenti sul fatto che comunque ci vuole un invito, un incitamento a farli partecipare e conoscere perché questo assenteismo non va bene, assolutamente. E adesso siamo invece alla pagina dedicata ai tanti eventi che hanno affollato questo fine settimana. Partiamo da Foto Antiquaria. Ho comprato una macchina piccolina fatta a Firenze negli anni 30, quindi giusto per collezione o provare a farci qualcosa. 1930, ma fatta a Firenze. 40 espositori provenienti da tutta Italia, tantissimi gli appassionati e i collezionisti arrivati in Piazza Grande sotto le loggie Vasari. Nel cuore della città infatti è tornata alla Mostramercato Foto Antiquaria. Guardo vecchie macchine analogiche a pellicola, se c'è qualcosa interessante. Cosa cercano? Vedo dei rullini, si torna alla pellicola, all'analogico anche? Si torna alla pellicola, cercano un tipo di pellicola particolare, però piano piano si sta tornando alla pellicola. Sì, se non interessa la pellicola qui trova un po' di tutto. Richiama molte persone, insomma, quindi effettivamente è un punto di riferimento importante per la fotografia. Cosa cercano gli appassionati? Allora, noi siamo specializzati in particolar modo sul Pentax, che è un marchio particolare, un po' proprio diciamo per gli appassionati. Foto Antiquario ormai da 38 anni è un appuntamento costante, anzi un doppio appuntamento perché c'è un'edizione primaverile, una diciamo autunnale. C'è interesse sia da parte degli espositori che dei visitatori. Gli espositori sono affezionati a questo posto. È particolarmente suggestivo, è protetto, per cui, insomma, questo è il massimo però che possiamo fare per il numero che mantiene la sua dimensione, ecco, senza poter svilupparci ulteriormente se non avremmo qualche opportunità in più. Il 12 e 13 ottobre si tenevano anche le giornate del FAI autunnali. Vediamo com'è andata nel nostro territorio. Tornano le giornate d'autunno del FAI, nei 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari, un percorso sulle tracce di quest'artista. Sì, allora, come FAI, quest'anno abbiamo proprio organizzato un percorso per la celebrazione del 450esimo anno dalla morte di Giorgio Vasari, in linea col Comune di Arezzo che organizzerà in tutto quest'anno varie mostre e eventi relativi a questa celebrazione. Qual è l'itinerario seguito? L'itinerario seguito partirà dal Teatro Vasariano, che è una cosa di solito non vista, quindi comunque è un luogo che il FAI riscopre. È utilizzato attualmente dal Liceo Musicale di Arezzo, comunque è il primo teatro che è stato realizzato ad Arezzo, progettato appunto da Giorgio Vasari insieme al Palazzo delle Logge. Venuto Piero in Arezzo dipinse per Luigi Bacci, cittadino aretino in San Francesco, la loro cappella dell'altar maggiore, la volta della quale era già stata cominciata da Lorenzo Di Bici. E poi seguirà la mostra alla Fraternità dei Laici, sempre dedicata al progetto della loggia del Vasari. Abbiamo tanti turisti per l'occasione? Tantissimi, in effetti siamo contenti perché la partecipazione è stata molto ampia, come sempre, insomma ci piace realizzare questi eventi che comunque sono una grande vetrina per Arezzo e soprattutto per la cultura e per l'arte. Un bilancio assolutamente positivo, quello dell'edizione numero 18 che va dunque in archivio, parliamo del mercato internazionale del gusto. Occupazione dei posti letto all'80% e circa 300.000 presenze tra aretini e turisti. Sono i dati diffusi da Confcommercio in merito all'edizione numero 18 del mercatino internazionale che si è appena concluso ad Arezzo. Fortunatamente il tempo è stato clemente, afferma Gianluca Rosai, responsabile degli eventi di Confcommercio. Al di là di qualche acquazzone, le tre giornate sono state bellissime. Possiamo dire che è stata un'edizione importante sicuramente sui livelli del 2023. Nel fine settimana sono arrivate persone non solo da Arezzo ma anche dall'Umbria, dal Lazio e dalle Marche. La manifestazione sta iniziando ad avere un appeal fuori provincia, prosegue Rosai, calamitando turisti da tutto il centro Italia. I parcheggi Mecenate e Baldaccio erano sempre pieni e nel fine settimana anche le strutture ricettive hanno registrato tantissimi arrivi. Il mercato internazionale è stato pensato per ravvivare un periodo dell'anno in cui la città si svuota di visitatori. Con questo evento abbiamo riportato i turisti ad Arezzo in attesa della città del Natale. E poi il capitolo lavoro. Sono state 63 le assunzioni di persone per queste tre giorni, mentre 92 operatori, conclude Rosai, della provincia, hanno avuto una vetrina importante per farsi conoscere. Sei benvenuti in Arezzo! Grazie mille! E a proposito di eventi, il prossimo fine settimana ne sarà ancora ricco. Intanto arriva ad Arezzo, anzi torna ad Arezzo, l'edizione indoor del grande mercato delle Pulci. sabato 19, domenica 20 ottobre appunto tornerà il mercato. Oltre 600 gli espositori, una iniziativa, una manifestazione che ormai lo sappiamo richiama visitatori anche da fuori il territorio nazionale. Non ne abbiamo parlato proprio con colei che insomma gli ha dato vita insieme a tanti altri collaboratori, ovvero Silvia Ciarpaglini. Vedete appunto la sua foto nel salotto di Fattore D perché proprio questa sera appunto andrà in onda la puntata a lei dedicata. Allora non perdetevela alle 21, subito dopo il nostro telegiornale, la nostra trasmissione che porta nelle vostre case le storie delle donne in collaborazione con il Centro Antidiolenza di Arezzo. E domenica prossima 20 ottobre torna in piazza Saiacopo ad Arezzo anche il mercatino dei ragazzi del Calcit. 26 gli espositori, definiti dal comitato storici, circa 70 i banchi per questa edizione autunnale, nello spazio appunto dove nel 1978 iniziò proprio l'avventura del Calcit. Il ricavato sarà destinato al sostentamento del servizio scudo, cure domiciliari per malati oncologici. Siamo alla pagina dello sport, partiamo dunque dall'intervista di Mr. Troise al termine di Arezzo Rimini che come sappiamo è finita con un pareggio. Una partita con tanti periodi, bella secondo me in termini di ritmo, di fisicità, di quelle che sono state anche delle espressioni di gioco alternate. Ci lascia un pizzico di rammarico perché comunque secondo me abbiamo fatto la cosa un po' più complicata, sbloccarla al fronte di un avversario che sta dimostrando grande solidità, fisicità e che riesce a rimanere in partita per tutta la durata della gara. Il rammarico è quello di essere rientrati secondo me un po' rinunciatari, consapevoli del fatto che avrebbero tenuto ritmi alti, avrebbero insistito e avrebbero creato delle pericolosità sia sotto l'aspetto tattico ma anche per quanto riguarda poi i piazzati. Detto questo, passata quella fase, sulla distanza siamo riusciti di nuovo a riprendere campo e a creare poi anche noi quelle occasioni che potevano portarci alla vittoria. Però, ripeto, poi è un punto che ci dobbiamo tenere stretti per come è arrivato, dobbiamo guardare avanti con fiducia, la domani ce l'ha preparata un'altra gara. Con l'ennesima conferma che questo campionato ha tante compagini, compreso il Rimini, dove nulla è scontato, se guardiamo anche gli altri risultati il campo basso piuttosto che altre squadre sono riattaccate e ogni partita veramente è complicata a strappare due punti. Noi dobbiamo, ripeto, continuare perché anche oggi sotto l'aspetto della preparazione della gara, su quello che è stata un'organizzazione stiamo portando avanti determinate cose, però allo stesso tempo anche questa ci deve servire la lezione perché un 1-0 poi non ti può bastare in virtù di quella che è l'equilibrio di ogni partita di questo girone. Questo è un avversario che in termini di, tanti li ho allenati, in termini di intensità, dinamicità e di passo, anche come strutturati i giochi, come si sono sistemati, non è semplice reggere i loro ritmi. Dispiace un po' per come abbiamo gestito dopo 1-0 determinati palloni perché poi a quel punto si sono alzati un po' e siamo diventati un po' rinunciatari sulla prima palla recuperata dove c'erano gli spazi per sfruttare i gaddini, pattarello a campo aperto. Ripeto, poi nel secondo tempo c'è stata un'altra lettura perché siamo rientrati, secondo me, un po' rinunciatari nel discorso di poter gestire un risultato ancora troppo in equilibrio e a cospetto appunto di un avversario che rimane in partita per tutta la gara. Non è andata bene invece per le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile che sono tornate dalla trasferta di Pavia con una sconfitta. Finisce con una sconfitta la sesta giornata di campionato dell'Arezzo Calcio Femminile che ha affrontato il Pavia Academy in trasferta. Le Amaranto, reduci da una serie di risultati positivi, erano partite con il piede giusto portandosi in vantaggio al trentasettesimo con Zito che con un pallonetto aveva superato il portiere Deiana. Il primo tempo si era chiuso con l'Arezzo avanti di un gol nonostante alcune insidie create dal Pavia. Nella ripresa il Pavia Academy ha ribaltato il risultato. Al quarantottesimo Alborghetti, sola davanti alla porta, ha segnato il gol del pareggio. Appena quattro minuti dopo, al cinquantaduesimo De Maio, ha trovato il raddoppio portando il risultato sul 2-1. Nonostante diversi tentativi da parte delle ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile, quest'ultime non sono riuscite a raddrizzare l'incontro. E così si è concluso con i tre punti che ha portato a casa il Pavia Academy. E sarà una gara di cartello quella di domani, martedì 15 ottobre alle 21, per la BC Servizi Scuola Basket Arezzo, che fra le mura amiche del Palaestra affronterà la capolista Costone Siena. Dopo la promozione della scorsa stagione, i gialloverdi senesi stanno proseguendo a viaggiare con il vento in poppa. Dunque la BC Servizi sarà chiamata ad un'altra prestazione di alto livello per provare a mettere qualche sassolino negli ingranaggi della compagine senese. L'appuntamento da non perdere per tutti i sostenitori a Maranto, che lo vorranno appunto seguire in presenza, è fissato sugli spalti del Palaestra per domani, martedì 15 ottobre, a partire dalle 21. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Come anticipato vi lascio alla consueta puntata del lunedì di Fattore D, Storie di donne, questa sera ospite Silvia Ciarpaglini. Grazie per l'ascolto e arrivederci.